Dopo aver trascorso una notte in questura, Alessandro Sacchi, l'ottantenne che è ucciso con un colpo di pistola alla moglie Serenella Mugnai, 72enne, malata di Alzheimer, è stato trasferito nel carcere di San Benedetto, dove passerà le ore che lo dividono dall'udienza di convalida dell'arresto che potrebbe essere celebrata a lunedì mattina. In quell'occasione sarà infatti valutata la misura cautelare e adeguata alla situazione dell'anziano, sulla quale pende l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugale con la vittima. L'uomo è difeso dagli avvocati Piero Melani Graverini e Stefano Sacchi, nipote della coppia. Anche a loro l'ottantenne ha raccontato la sua estrema difficoltà nel riuscire a prendersi cura della moglie, le cui condizioni di salute peggioravano giorno dopo giorno. La coppia non aveva figli ed era stato proprio Sacchi a prendersi cura della moglie, una situazione sempre più difficile da sostenere. Andavo a assistere la signora da febbraio che soffriva d'alzame, ma io ieri ci sono state, era tutto regolare. Lui mi aveva detto che la voleva mandare, non era in RSA. Io gli avevo consigliato di andare al diurno e mi aveva detto vado al punto insieme di via Curtatone, mi faccia sapere stamani. Lui no. E io gli avevo detto che non ce la poteva fare da solo, si doveva fare aiutare. Lui era esasperato. L'omicidio si è consumato all'interno dell'appartamento della coppia al terzo piano di una palazzina di via Legiotto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sulla vicenda, indaga la squadra mobile, i due si trovavano in cucina quando l'uomo ha rivolto la pistola ereditata dal padre, non dichiarata verso la donna, e ha sparato un colpo alla testa. Poi sotto shock ha raggiunto i vicini chiedendo che fossero avvisate le forze dell'ordine e chiamati soccorsi. Ma per la donna era ormai troppo tardi.